ciao bannis ben ritrovati qui su soraire for bannis io sono panoschi nuovo episodio di five for bannis questa volta dedicato al calcio argentino five for bannis una rubrica dove andiamo a consigliare cinque giocatori ognuno per ruolo più un jolly nel miglior rapporto qualità prezzo ligi sempre alla nostra filosofia del canale small budget big result ovviamente andiamo subito a cambiare inquadratura eccoci qui vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al nostro canale twitter al nostro canale telegram qui trovate tutti i link e di mettere un like ai video perché serviranno anche alle quest di zili per ottenere card nella nostra prima web 3 community su soraire ma bando alle ciance andiamo subito a vedere i giocatori che ho selezionato per voi partiamo dal portiere allora il portiere come dicevamo five for bannis la filosofia cerca portieri sotto il budget di 0,02 in questo caso i portieri argentini ancora più difficile trovarne qualcuno perché oltre ad esserne pochi ovviamente quei pochi che ci sono essendo un campionato molto difensivo quindi incline a subire e a fare pochi gol ovviamente i migliori portieri costano più del doppio forse anche eccessivamente quindi nel rapporto qualità prezzo il migliore per quanto riguarda il campionato argentino è ramiro macagno cosa c'è da dire su di lui ramiro macagno in realtà in un portiere del new and sold boys in prestito al platense fino a fine anno portiere abbastanza giovane per questo tipo di campionato e come vedete abbastanza affidabile cosa c'è da dire però c'è da dire che ovviamente ha preso il posto solo di recente all'inizio di marzo credo che debba rimanere così lui con la titolarità fino a fine anno ma bisogna sempre ricordare per quanto riguarda la titolarità nei campionati sudamericani sono concetti sono concetti abbastanza diversi in quanto durante la stagione spesso verso riguarda anche per i giocatori di movimento l'avvicendamento è abbastanza frequente in questo caso con questo prezzo e queste medie ramiro macagno secondo me mi sembra una soluzione interessante anche per il futuro il futuro se dovesse tornare al new else soprattutto se andiamo a vedere qui il prezzo è davvero sceso tantissimo addirittura ci vogliono 0,14 per accaparrarsene qualcuno qualche card un anno fa a questo prezzo secondo me ragazzi è davvero un'occasione se volete giocare con un portiere argentino e giocarci l'estate e cercare i più clichet possibili per quanto riguarda la difesa ci sono tanti difensori argentini interessanti ma io ho scelto gaston hernandez del san lorenzo perché mi sembra ottimo come rapporto qualità prezzo lo a 0,0060 quindi circa 10 euro anche la rara è abbastanza sotto i 100 euro 005 abbastanza interessante come vedete qui già dalle medie sono abbastanza alte ma in realtà ragazzi il san lorenzo sta facendo davvero un grande campionato e vedete qui le ultime quattro partite ragazzi che medie e che all around per lui giocatore abituato a fare molte medie interessanti ma soprattutto nella forma delle ultime partite mi sento davvero di consigliarlo a questo prezzo prima che dovesse che debba salire forse per quanto riguarda il prezzo un difensore davvero affidabile se vogliamo anche lui un gol in 13 apparizioni ne ha saltata soltanto uno viene dalla cantera del san lorenzo giocatore abbastanza giovane ma sembra davvero giocare come un veterano quindi a questo prezzo secondo me è ancora sottoprezzato anche se sta quasi ai massimi come siamo qui però se volete un giocatore un difensore affidabile per tutta l'estate forse non per le capped dovute alle sue medie alte però mi sembra davvero davvero affidabile per quanto riguarda il centrocampista allora ragazzi qui non ce n'è secondo me perché matthias rocas il paraguaiano del racing club del racing di avejaneda mi sembra davvero interessante per due motivi innanzitutto perché come vedete qui gioca davanti è vero che adesso infortunato ma dovrebbe tornare per fine mese fine maggio ne possiamo approfittare perché come vedete il prezzo è ancora abbordabile l'ho trovato sotto lo 0001 quindi sotto i 15 euro che cosa c'è da dire anche il prezzo se vogliamo ragazzi di rocas è abbastanza allettante ha perso da quando si è infortunato un po il suo roster il floor price però adesso lo trovate un prezzo interessante aspettate magari un pochino potrebbe ancora scendere di più però già adesso potrebbe essere una buona occasione lui arriva ovviamente dal seroportegno paraguaiano dove grande campionato con il seroportegno nazionale paraguaiano davvero un giocatore interessante soprattutto perché gioca davanti e da quando non c'è lui il racing ne sta soffrendo davvero tantissimo per quanto riguarda invece l'attaccante andiamo da un mio pupillo ed è ramiro sordo ramiro sordo come vedete qui sarà under 23 fino a luglio 2024 quindi ancora per un anno anche lui viene dalla cantera del new health le ultime partite davvero sta facendo qualcosa di interessante guardate che medie attaccante esterno a cui piace molto tenere la palla ed entrare nel vivo del gioco nelle ultime partite si sta davvero sta davvero performando in maniera assidua già sei gol e quattro assist per lui medie davvero alte forse non ottimo per la capped ma per giocare america e all star quello che volete un giocatore che secondo me potrebbe salire ancora sia di prezzo che come media infatti se andiamo a vedere il prezzo ragazzi guardate qui l'anno scorso lo dovevate prendere quasi a 0,09 anzi l'ha superato quasi a 0,09 adesso invece lo trovate a 0,0074 anche la rara mi sembra abbastanza interessante per uno dei gioiellini del new health hall boys squadra che sta facendo un discreto campionato piena di gioiellini soprattutto davanti da seguire ma il migliore secondo me per rapporto qualità prezzo mi sembra davvero ramiro sordo per quanto riguarda invece il jolly ragazzi un altro dei miei pallini è lui Aleko Veliz Aleko è un altro dei giocatori che viene dalla cantera del rosario il rosario ovviamente non sta performando benissimo in questa prima parte di campionato però le uniche note positive vengono appunto da Aleko davvero un attaccante interessante negli ultimi tre mesi ha fatto ben 6 gol e lo vedete qui buone medie non è un grande all arounder se vogliamo però è un bomber ragazzi 2013 a 9 anni sarà quindi under 23 fino al 2028 uno di quei talentini già sulla bocca di tutti e sta facendo ingolosire diversi club europei quindi potremmo fare anche una buona plus valenza il prezzo è ancora sotto le 0,01 trovate a 0,0085 anche la rara sotto lo 001 un bomber che secondo me farà esperienza questo è il suo primo campionato a titolare da punta da prima punta e potrebbe migliorare davvero il suo score anche il prezzo come andiamo a vedere è davvero economico rispetto a un anno fa dove lo trovevamo a 0,05 anche di più mi sembra un ottimo prospetto anche futuro in investimento davvero interessante con questo concluso i miei 5 for bannis vi ricordo innanzitutto che c'è la superliga argentina for bannis la mia watch list su tutti i giocatori del campionato argentino che seguo e che seguo e consiglio di tenere d'occhio la trovate sul canale telegram solare for bannis il link che metterò e qui potete avere un'idea un po' dei giocatori da selezionare se volete puntare su questo campionato andiamo a vedere magari se ci sono occasioni che ha perso percentuali di floor price e chi li ha guadagnate è sempre uno tool ottimo detto questo ragazzi non mi resta che salutarvi e vi rimando al prossimo appuntamento di 5 for bannis vi ricordo la live domani su zili con lo sprint per quanto riguarda le quest su zili e abbiamo attivato gli abbonamenti sul nostro canale twitch per gli abbonati ci saranno tante novità e servizi premium solo per voi ci vediamo al prossimo episodio di solare for bannis un saluto da me da paunoschi alla prossima puntata ciao